Ben ritrovati amici di tuttandroid.net, prima una fotografia, poi un video, infine l'ufficialità è finalmente arrivato un porting di Sailfish OS per OnePlus One l'abbiamo installato ed ora andiamo a vedere insieme come si comporta Eccoci quindi con OnePlus One, a bordo c'è Sailfish OS vado a sbloccarlo altrimenti si spegne immediatamente per chi non sapesse cos'è Sailfish OS, è un sistema operativo fatto e finito, indipendente, completo al pari di Android, al pari di iOS e Windows Phone purtroppo al momento Sailfish OS non è ancora molto conosciuto, non è molto sviluppato ha bisogno ancora un po' di tempo prima di essere paragonato, di poter essere paragonato con questi colossi per quanto riguarda i sistemi operativi però è davvero molto molto interessante, al momento si trova uno smartphone ed un tablet tra l'altro abbiamo avuto modo di conoscere più da vicino al Mobile World Congress e siamo rimasti davvero molto colpiti anche perché il tablet montava già la versione numero 2 di Sailfish OS mentre qui su OnePlus One per il momento abbiamo ovviamente il porting ma della versione 1 dunque vi faccio vedere a grandi linee come funziona Sailfish OS per farlo mi servo del tutorial che è veramente perfetto per evitare che io mi dimentichi qualcosa dunque lo avviamo, questa è la schermata di sblocco qua la cosa interessante che vi faccio notare sono le icone che rappresentano le notifiche in sospeso con uno swipe verso l'alto andiamo a sbloccare questo è il centro nevralgico di tutto il sistema operativo di Sailfish OS cioè la schermata con le varie anteprime che sono le applicazioni aperte in background per fare un parallelo con Android potremmo paragonarlo al Task Manager che per esempio ora sull'Hollipop ha avuto un restyling e ha acquisito ancora maggiore importanza ecco qui è la parte centrale proprio perché Sailfish OS vuole fare del multitasking la sua vera caratteristica principale scorriamo verso l'alto ed entriamo nel drawer delle applicazioni questo è il drawer delle applicazioni nella versione 2 è molto interessante il fatto di entrare nel drawer delle applicazioni con uno swipe dal basso verso l'alto in qualsiasi applicazione ci troviamo mentre invece nella versione 1 che è questa qui possiamo entrare nel drawer delle applicazioni solamente dalla schermata home quella con le anteprime scorriamo verso il basso e torniamo alla home continuiamo con il nostro tutorial queste in poche parole sono le varie gesture che ci permettono di interagire con il sistema operativo che avrete capito è tutto completamente basato su questa modalità di interazione quindi nessun pulsante ma solo tantissimi gesti andiamo a toccare sull'applicazione contatti qua è interessante vedere i contatti principali questi ovviamente sono contatti di test che vi fanno vedere un po' come funziona in questo per esempio vedete questo piccolo tratteggio verde che sta ad indicare che il contatto è online su uno dei vari social al quali abbiamo collegato il nostro account scorriamo verso destra e verso sinistra per tornare nella schermata delle anteprime anche questo sarà leggermente diverso poi nella versione 2 andiamo a continuare con uno swipe dal basso verso l'alto entriamo nella schermata delle notifiche quello che è il vero e proprio centro delle notifiche molto interessante perché racchiude veramente tutte le notifiche che abbiamo quindi un po' come fa per intenderci Blackberry sul suo OS X per capirci se qualcuno lo conosce allora qui abbiamo per esempio alcune notifiche di email chiamate perse, messaggi e più in basso avete anche le notifiche relative a Twitter e Facebook torniamo ancora una volta nella parte principale quella con le anteprime adesso andremo ad aprire la galleria così la vedete molto bella anche in questo caso andiamo ad aprire un album questa è la visualizzazione con le foto tutte messe in modo compatto davvero comunque interessante quando vedete questo puntino bianco significa che siamo in una schermata annidata che quindi potremo tornare indietro per tornare ad un menu, una schermata precedente andiamo a continuare, vediamo cosa ci farà fare aprire il telefono questa è la vista con le chiamate effettuate e ricevute la luce in alto ci indica che abbiamo un menu per accedere al menu potremo fare uno swipe dall'alto verso il basso e vedete che basterà piano piano in base allo swipe alla lunghezza dello swipe che facciamo selezionare una voce del menu inseriamo il numero di telefono e continuiamo anche questo tutorial questa è la schermata di una chiamata in entrata con uno swipe dall'alto verso il basso rispondiamo andiamo a rispondere se no non ci fa continuare oppure viceversa andiamo a chiudere la chiamata chiudiamo il tutorial quindi avete visto un po' come sono i gesti purtroppo in questo porting non funziona il telefono non funziona il wifi e quindi non riesco ad attivare nemmeno la connessione dati e quindi non riesco a farvi vedere praticamente niente purtroppo però avete avuto l'opportunità di vedere un po' come funziona Selfish OS vi faccio ancora vedere qualcosina per esempio le impostazioni impostazioni interessanti perché adesso siamo già in una schermata successiva questa è la schermata principale sono divise in sistema, applicazioni, account e questa è un po' una filosofia diversa rispetto ad Android perché ad esempio sulle applicazioni solo da questa schermata potremo entrare nelle impostazioni relative ad ogni applicazione al contrario invece su Android dobbiamo prima entrare nell'applicazione e poi entrare nelle sue impostazioni vediamo quali sono le personalizzazioni di sistema non sono poi molte sono quelle diciamo di base che abbiamo anche su Android possiamo aggiungere tantissimi account guardate qua quanti ce ne sono poi riceveremo le notifiche sempre qua nel centro notifiche questo per esempio è una notifica di un messaggio che ho provato ad inviarmi vedete i messaggi in realtà arrivano però poi non potremo fare chiamate insomma al momento questo porting non è assolutamente utilizzabile tutti i giorni vi faccio vedere ancora la galleria perché qua ci sono le atmosfere che sono una particolarità di Selfish OS con atmosfere possiamo fare nuovamente un parallelo con Android vedendole come dei temi temi però globali che vanno ad applicarsi a tutta la grafica del sistema andiamo per esempio ad applicare questo qua verde tiriamo verso il basso qua vedete la luce in alto impostiamo l'atmosfera e vedete che è cambiato praticamente tutto questa è la schermata principale sono cambiate è diventata tutta verde praticamente entriamo anche in un'applicazione così vi faccio vedere come vedete che ha anche la tastiera tutte le varie parti di inserimento ecco a proposito della tastiera non ve l'ho fatta ancora vedere andiamo a scrivere una nota magari eccola qua vedete molto molto carina in questo caso è verde appunto perché è in tema con l'atmosfera che ho selezionato purtroppo non funziona nemmeno la fotocamera insomma bisognerà attendere ancora un po' perché OnePlus One sia utilizzabile almeno parzialmente tutti i giorni con Selfish OS purtroppo per il momento l'unico dispositivo nativo con Android che sono riuscito ad utilizzare in modo continuativo con Selfish OS è Nexus 4 che è diciamo il device con cui YOLA ha deciso di far conoscere agli utenti Android il proprio sistema operativo non ricordo se ve l'ho detto Selfish OS è il sistema operativo comunque distribuito da YOLA che ha fatto lo smartphone ha fatto il tablet e è in parte open source in parte con codice proprietario di YOLA in ogni caso il sistema operativo è davvero molto molto interessante che vale la pena seguire da vicino su tutto Android comunque abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo verso YOLA perché abbiamo già provato diverse in diverse occasioni con diversi dispositivi questo sistema operativo e continueremo a farlo perché crediamo veramente che sia un progetto interessante poi vi confesso che a Barcellona al Mobile World Congress abbiamo anche avuto l'occasione di parlare un po' con alcuni ragazzi che erano lì allo stand e ci ha veramente colpito il loro entusiasmo il loro modo di intendere questo sistema operativo quali sono qual è la filosofia che sta dietro alla creazione appunto dei tablet dello smartphone proprio dell'ottimizzazione del sistema e poi anche la versione 2 è veramente molto molto bella molto molto carina soprattutto sul tablet a mio avviso ultima cosa che mi viene in mente che mi sono dimenticato è questa si può andare a chiudere si possono andare a chiudere le applicazioni e nelle anteprime le anteprime sono dinamiche nel senso che con uno swipe per esempio qua nel caso della sveglia potremo andare ad aggiungere una nuova sveglia oppure aggiungere una nuova nota e via dicendo aggiungere un nuovo contatto oppure andare a chiamare un numero telefonico direi che se il fish.os è tutto qua vi consiglio di aspettare per installarlo su OnePlus One comunque eventualmente potrete anche installarlo come ROM secondaria su grazie a multi-ROM manager abbiamo creato già la guida con Simo Scorpion che come al solito compie sempre un lavoro egregio per il momento è tutto un saluto da Matteo per TuttoAndroid.net Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti